Mario Giordano sta confezionando un servizio su Fedez che è diventato un caso prima ancora di essere mandato in onda fuori dal coro, su Rete4. Il rapper ha accusato il giornalista di andare in giro a chiedere. Ai miei amici se sono omosessuale. E' quindi scoppiata una grossa polemica. Con Matteo Salvini che è sceso in campo per attaccare via social Fedez e prendere le difese di Giordano. Gente che invoca la libertà ha scritto il vice premier sui social Parla di Libertà. Dice di difendere la libertà e poi insulta. Deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano. Gigante nel giornalismo e nella vita. Inoltre Salvini ha condiviso la replica del giornalista al marito di Chiara Ferragni. Caro Fedez ti stai sbagliando. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma anche questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità. Sulla sicurezza. Sulle case occupate e nessun servizio su di te. Per questo ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti. L'attacco di Fedez era stato duro. Dato che si era sentito toccato nel personale. Questa non è un'inchiesta. Se lo è. È un'inchiesta del K4. È la cloaca del giornalismo. Il servizio di fuori dal coro prenderebbe le mosse da quanto accaduto al festival di Sanremo. Con Fedez si è fatto coinvolgere da Rosa Chemicol con un bacio e mi mando un rapporto sessuale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.